è una cosa che ad amici succede tutte le settimane per tutti non c'era bisogno di farlo con lui è una cosa che ad amici perché è una cosa che a un ragazzo di 18 anni non si fa nell'insicurezza perché gli altri quanti anni hanno? no no sto parlando io gli altri quanti anni hanno? no 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 gli altri quanti anni hanno? gli altri non sono dentro la scuola e pensano di perdere la cosa gli altri ragazzi che sono dentro la scuola non l'hai fatto cantare sei scorretto vai pure vai pure sei scorretto Olli per favore torni in casetta raga ma io non mi sento demoralizzato bene sono contento Anna sai perché non mi sento demoralizzato ma perché c'è una roba del genere non l'hai fatto cantare non mi tocca perché se sei non posso andare a presa a ste robe dai c'è il mio c***o di percorso casetta per favore dai ma c'è Rudy però con tutto il rispetto ma guardiamoci anche negli anni ma che ti hai portato questa scuola no lascia stare Francisco torna in casetta per favore grazie complimenti complimenti Olli grazie complimenti cosa ha detto non ho sentito cosa hai detto niente niente Anna è meglio che tu non senti è meglio che non senti ha detto guarda bene chi hai portato negli anni questa scuola vedi un po' tu guarda tu vabbè Francisco ti prego non è il momento delle polemiche grazie a te 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 grazie a te